Ok, allora proviamo a cimentarci con questo secondo esercizio, almeno iniziare. Allora, come al solito ci prepariamo un progetto. Simulatore emergency. Package, polito, tdp, emergency. E qui dentro facciamo la classe simulatore. Visto che questo sarà un progetto più complicato, anziché mettere tutto in una classe unica, lasciamo anche la classe evento, la classe tipo evento, come classi separate, così vediamo le due modalità. Allora, noi abbiamo, quindi dobbiamo gestire, dicevamo, un modello del mondo che è fatto di un insieme di pazienti che creiamo in qualche modo, dove in questa slide, che non avevamo guardato prima, viene riassunto quali sono le condizioni di simulazione, cioè che cosa serve questo simulatore. NS è il numero di studi medici che ci sono, quanti studi medici ci sono, e di ciascuno studio medico probabilmente mi interesserà sapere se è libero oppure se c'è qualcuno dentro, e chi, quale dei pazienti è dentro. Come eventi iniziali o NP, pazienti, che arrivano ogni T-arrival minuti, che anche questa è una costante, e fingiamo che il triage lavori assegnando i tre codici, bianco, giallo e rosso, a rotazione. Cioè il primo che arriva sarà sempre bianco, il secondo che arriva sarà sempre giallo, poi sarà rosso e così via, poi ricominciamo da bianco. È un criterio stupido, per non metterli casualmente, li mettiamo a rotazione. E simuliamo l'ambulatorio, il pronto soccorso, dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Quindi qui abbiamo dei tempi veri, delle orari veri da gestire. Cosa vogliamo sapere? Vogliamo sapere quanti pazienti sono stati trattati, quindi sono usciti dallo studio, quanti pazienti hanno abbandonato, erano i bianchi che si stufavano, e quanti pazienti sono morti, che sono i rossi che non sono riusciti a entrare nello studio medico in tempo. Sulla base di questi parametri di ingresso, quindi io posso variare quanti studi medici ho, ne ho uno, ne ho due, ne ho tre, posso variare il numero di pazienti che arrivano e contemporaneamente l'intervallo di tempo tra un paziente e l'altro. Il resto rimane fisso come in palcatura del simulatore. Ovviamente tutte le quantità che abbiamo detto possono essere rese stocastiche. Cioè qui abbiamo detto, ho dei pazienti che arrivano a ciascuno ogni T-arrival, ma nessuno mi vieta di complicare un pochino il modello e dire T-arrival più o meno una percentuale random. Il triage, anziché farlo a rotazione bianco-giallo-rosso, potrei farlo con tre probabilità diverse, quindi ogni volta che arriva un paziente, estraggo il numero casuale e capisco, e decido se è bianco-rosso o verde, bianco-giallo-rosso e così via. Quindi però la prima versione la facciamo con i valori statici, poi volendo si può complicare andando a dare dei parametri di variazione per le varie durate. Così come anche la durata del trattamento, le durate di time-out possono anche qua avere delle variazioni casuali. Ma noi per ora, come dicevo, nella prima versione è già complicato così, implementiamolo in modo deterministico. Quindi qua non c'è nessun fattore casuale in questa prima impostazione dei parametri e della simulazione. Quindi noi dobbiamo, in qualche modo, ragioniamo insieme a voce alta, rappresentare dei pazienti, rappresentare degli studi e rappresentare degli eventi che accadono. Il modello del mondo, il modello del sistema è fatto di una serie di pazienti e una serie di studi, perché è variabile questa, quindi ne dobbiamo tenere conto, ciascuno dei quali può avere o non avere un paziente dentro. E quindi sarà, la simulazione la vedo dal punto di vista del paziente. Cioè l'evento è un paziente che fa qualcosa. Potrei vederla ma sarebbe incompleto dal punto di vista dello studio, cioè dal punto di vista del medico, è il medico che fa qualcosa. Ma il medico non è soggetto della simulazione, perché poi ci sono altri medici vicino a lui che fanno cose diverse e poi c'è il triage che fa cose ancora diverse, quindi si complicherebbe di più vedere dal punto di vista degli operatori. Lo vediamo dal punto di vista del paziente. Allora, ci servirà di sicuro una classe paziente. No? Perché dobbiamo distinguere un paziente dall'altro e ogni paziente avrà un suo stato, che è uno di questi. In questo momento tu sei un paziente, va bene, dove sei? Sono in sala d'atteggio col codice giallo, oppure sono appena arrivato. E quindi è un'informazione che possiamo associare al paziente. Il simulatore, vado in modo un po' disordinato avanti e indietro, perché costruiamo il ragionamento insieme. Il simulatore, abbiamo detto, dovrà avere le quattro variabili principali, che sono i parametri d'ingresso, il modello del mondo o del sistema, la coda degli eventi, vabbè, che l'ho messa in fondo anziché per prima, e i valori in output. Allora, ragioniamo prima sul modello del mondo. Durante la simulazione, quali informazioni ho? Ho le informazioni su quali sono i pazienti attualmente presenti. Quindi io avrò una, potrò avere una lista di pazienti. Ho un set. Adesso vediamo un attimo che operazioni dobbiamo farci, decidiamo qual è la collection migliore. Per il simulatore, in ogni momento, sa quali pazienti ha. Sta gestendo. Quando arriva un paziente nuovo, viene aggiunto quella lista. Quando un paziente muore o se ne va, viene tolto da quella lista. Quando un paziente si sposta da una fase all'altra, rimane nella lista, ma cambierà la sua etichetta, cambierà il suo stato. Ok? E che cosa sappiamo di ciascun paziente? Ciascun paziente, vabbè, diamogli un nome, id, un intero, 1, 2, 3, 4, 5, giusto per poterlo distinguere. E dovremo avere uno stato di questo paziente. lui è new, è giallo, è verde, qualche cosa che dica in quale situazione si trova, che è uno di questi. Quindi, per poterlo fare, chiediamo un'altra classe, un enum in realtà, che riassuma quali sono gli stati in cui si possono trovare i pazienti. Un paziente si può trovare nello stato new, si può trovare nello stato nello stato yellow, red, treating, out, o dead. Allora, quando viene creato, viene creato nello stato new, dopo il triage entra in uno di questi tre stati, se va tutto bene, andrà nello studio e poi uscirà. E poi ci sono le transizioni in più. quindi il mio paziente avrà uno stato stato paziente stato tra come variabile che lo caratterizza. che è uno di questi valori. Salvo, salvo. Quindi, tornando al simulatore, io ho l'elenco di tutti i pazienti, ciascun paziente sa dove si trova. poi questi pazienti verranno ovviamente rimescolati dalla corda degli eventi. Cioè, dall'elaborazione della corda degli eventi. Allora, quali sono questi eventi che possono capitare? Allora, creiamoci l'elenco degli eventi. Numerazione e event type che l'avevamo chiamato prima. Allora, quali eventi possono capitare? può arrivare il paziente. Nel momento in cui il paziente arriva lo metto in coda per il triage. Cinque minuti dopo esce. Quindi, o l'evento arriva, quindi arriva un nuovo paziente all'ingresso. Poi, o l'evento triage che dice che al paziente viene assegnato un codice l'uscita del triage. Il triage sarà cinque minuti dopo l'arrivo. Poi sono tra i pazienti in attesa può capitare che il paziente venga chiamato. diciamo chiamato. Il paziente entra dal medico. Dopodiché uscita. Il paziente esce dallo studio medico. Oppure può esserci un caso di time out. Questo è il flusso normale se veniamo curati. Entriamo, ci viene assegnato un codice, aspettiamo, veniamo chiamati e usciamo dallo studio. L'evento arriva è quello che crea un nuovo paziente nello stato dove è andato? Nello stato new. L'evento triage è quello che cambia un paziente dallo stato new a uno stato colorato. L'evento chiamata è quello che cambia un paziente dallo stato colorato allo stato treating e l'evento uscita è quello che cambia lo stato del paziente da treating a out. Quindi abbiamo gli stati e le transizioni tra stati. Le transizioni sono associate agli eventi. Poi abbiamo degli eventi diciamo così non lineari, trasversali, ciò che può capitare nei casi di time out. quindi può essere un time out white può essersi un time out yellow può essere un time out red che sono i tre eventi che possono capitare. io al momento sinceramente non so se ci convenga tenere separati questi tre eventi oppure chiamarne uno solo time out e poi dopo dentro andare a testare lo stato dell'utente per vedere cosa succede. Vediamo se poi ci accorgiamo che il codice è troppo simile se li mettiamo fattore comune. Ok. Quindi questo crea un po' il modello mentale nostro di che cosa succede. e quindi la nostra coda sarà fatta di eventi creiamo la classe evento i quali hanno dentro che cosa? Hanno dentro l'ora ovviamente qui poiché abbiamo delle ore esplicite comune di usare local time ora e il tipo di evento sicuramente tipo queste ci sono sempre l'ora e il tipo il tempo e il tipo di evento ma in più adesso non mi basta dire che è la chiamata di un utente di un paziente di quale paziente che ho curato un paziente quale paziente ho curato che ho il triage l'evento è il triage di un paziente di quale paziente quale paziente che cambia stato prima sulle auto sapevo che un'auto esce e un'auto entra non mi interessava quale qui invece adesso mi interessa quale è il paziente che entra e quale esce quindi all'evento è associato anche un riferimento al paziente che è un riferimento un puntatore all'oggetto che vive qui i veri oggetti che rappresentano i pazienti sono dentro questa lista nell'evento non c'è una coppia diversa separata di pazienti i pazienti sono sempre gli stessi però devo andare a vedere qual è quello della lista o dell'insieme di pazienti che mi interessa in questo momento che sto trattando in questo momento e quindi la nostra coda degli eventi non è altro che una coda prioritaria e qui non ci sono sorprese che contiene questi eventi parte vuota e poi via via la popoliamo vabbè le altre cose sono dettagli nel senso che le altre variabili sono quelle più noiose cioè quali sono i parametri nsnp numero di studi medici np numero di pazienti in arrivo private int l'altra era t-arrival che era l'intervallo di tempo tra i pazienti il numero di studi è ancora forse una cosa un po' complessa è un po' confusa nella nostra mente finora non ci abbiamo ancora pensato ma cosa vuol dire avere più studi probabilmente dovremmo esplicitarli e i valori in output che lui ci chiede di calcolare sono il numero di pazienti curati il numero di pazienti abbandonati il numero di pazienti morti quindi private int pazienti private pazienti pazienti curati pazienti abbandonati pazienti morti allora prima di pensare a tutti get reset e dettagli proviamo a ragionare sul cuore dell'algoritmo con l'algoritmo sappiamo che sono i due metodi che abbiamo chiamato init e run allora il metodo init prepara la coda degli eventi con gli eventi in ingresso esogeni quelli che arrivano da fuori che non sono gestiti dal sistema ma sono imposti dal contesto in cui il sistema lavora in questo caso l'arrivo dei pazienti quindi il metodo init è lui che crea la lista dei pazienti ne crea in numero giusto in np e li schedula nei tempi opportuni a partire dalle 8 in realtà nel testo non c'è scritto quando arrivano i pazienti c'è scritto che devo simulare dalle 8 alle 20 però se il primo paziente arriva alle 8.00 oppure è già arrivato alle 6.30 non lo sappiamo non c'è scritto qua facciamo finta che il primo paziente arrivi alle 8 ma è una scelta nostra se vi andate a uno studio medico trovate di sicuro all'ora d'apertura trovate di sicuro 27 pensionati che sono lì dall'alba o prima questa è la realtà qui non la modelliamo è un time out altissimo ai pensionati non se ne vanno non si stufano quindi noi possiamo creare i nostri pazienti quindi noi abbiamo la lista di pazienti che è qua creiamo una lista vuota e questa lista la popoliamo di tot pazienti quindi for int i uguale 0 i minore tnp i più più creo un nuovo paziente lo aggiungo alla lista adesso creo un nuovo paziente abbiate datemi 10 secondi di tempo per creare il costruttore di questa classe che non abbiamo fatto prima se no col cavolo che posso crearlo quindi creo un nuovo paziente paziente p uguale new paziente id stato id diciamo i il numero progressivo diciamo i più 1 paziente 0 non mi piace c'è tanto di film catastrofici in cui ci sono i virus che si diffondono c'è il paziente 0 che è stato la causa dell'infezione e lo stato sarà ovviamente stato paziente punto new tutti i pazienti che creo sono new non sono ancora stati presi in carico e appena ho creato un paziente lo devo aggiungere alla coda quindi creo quindi creo già subito un evento che dice quando arriva questo paziente ok allora devo creare un evento in cui dovrò incapsulare questo paziente evento e uguale new event anche scusate costruttore per event lo mettiamo quindi qua in simulatore new event che richiede tre parametri ora tipo paziente allora tipo è il tipo di evento quindi sarà event type punto arriva paziente è il p che abbiamo appena creato arriva lui l'ora beh adesso dobbiamo calcolare l'ora abbiamo deciso di usare un local time che parte dalle 8 del mattino allora magari mettiamoli come costanti queste 8 del mattino fino ai 20 di sera per non avere delle costanti nel codice local time ti inizio uguale local time punto ov ricordate che il local time local day non hanno i costruttori ma hanno i metodi di factory perché sono oggetti immutabili quindi ov costruisce un oggetto local time partendo da ore e minuti oppure da ore e minuti secondi se volete da ore e minuti secondi nanosecondi eccetera eccetera per noi ore e minuti vanno bene 8 00 e private e private local time di fine uguale local time of 20,0 quindi quindi dentro la init mi dovrò gestire l'ora simulata di arrivo che inizializzerò con t inizio ovviamente e poi ad ogni nuovo paziente dovrò incrementare questo t inizio di una quantità pari a t arrival minuti quindi ora uguale ora punto plus allora abbiamo plus hours minutes nan plus minutes eccolo qua più minuti t arrival qui non c'era scritto nel testo scriviamocelo nel commento che questo t arrival intendiamolo intendiamo che sia rappresentato in minuti ok quindi abbiamo usato i dati le variabili temporali che ci ha semplificato parecchio il lavoro oh poi qua non c'è nessun controllo sul fatto che la combinazione di t arrival e di np abbia senso perché se io avessi t arrival di un'ora e np 100 avrei 100 pazienti che arrivano scadenzati di un'ora scaglionati di un'ora ma io sto simulando solamente dalle 8 alle 20 solamente 12 ore quindi 12 pazienti tratterò e gli altri non verranno neppure mai visti perché sono arriveranno dopo le 20 ok vabbè non facciamo controlli di questo genere magari ecco per comodità nostra come avevamo già fatto prima mettiamo dei valori di default numero di studi 3 numero di pazienti 50 e arrivano ogni 15 minuti poi con i 7 eventualmente li modifichiamo 15 minuti vuol dire che ne arrivano 4 all'ora diviso 50 sono circa sì su su 12 ore ne avremo possibilità di seguirne 60 ci stanno forse sono anche pochini vediamo però sicuramente non sforiamo le 12 ore con i tempi di arrivo cos'è che vuole? paziente int statapaziente.new perché non ti piace? non l'avevo salvato semplicemente non l'avevo salvato l'altra classe ok quindi abbiamo alla fine di questo init che cosa abbiamo? abbiamo la lista dei pazienti popolata con tutti i pazienti che arriveranno so che arriveranno e la cosa degli eventi popolata con i tempi di arrivo di ciascuno di questi pazienti a questo punto simulazione il run è sempre quello che è la vita più facile perché dovrà elaborare un evento per volta è uguale allora quali sono le condizioni di di iterazione? allora io devo iterare finché ho eventi nella coda perché ovviamente quando esaurisco la coda non ho più nulla da fare oppure fino a quando non raggiungo l'ora dell'evento quindi possiamo mettere la stessa istruzione di prima quindi while e.pol è uguale scusatemi è uguale q.pol è uguale q.pol finché questa cosa qua è diversa da null ciclo ma se per caso mi accorgo che l'evento che sto estraendo supera l'ora limite mi interrompo comunque quindi se non estraggo più niente mi fermo se l'evento che ho estratto è successivo alle ore 20 non lo devo più elaborare ma devo interrompere la simulazione ignorando sia quell'evento che tutti quelli successivi quindi dovrò controllare se e.getTime eh sì getter setter li mettiamo no? event genera gli abbiamo solamente getter perché vogliamo che l'evento ci fa tanto comodo che sia immutabile quindi nel simulatore avrò e.getOra se per caso getOra è after è più tardi del t fine interrompi t fine questo interrompi la simulazione no? il break mi fa uscire dal while e non faccio più niente questo è il modo più semplice cioè controllare l'evento nel momento in cui lo estraggo potrei anche controllare l'evento nel momento in cui cerco di inserirlo se cerco di inserirlo e mi accorgo che dopo l'evento non lo inserisco più e così la simulazione andrà a morire però visto che gli eventi li estraiamo in un punto solo che è qua nel metodo run scusatemi li estraiamo ho detto questo li estraiamo in un punto solo che c'è nel metodo run e invece li inseriamo in 50.000 posti diversi perché a seconda di ciò che succede dobbiamo creare eventi diversi è più comodo avere un punto unico in cui controlliamo le ore 20 più che non averlo replicato ogni volta che dobbiamo creare un nuovo evento inserirlo se invece non è non abbiamo superato le ore 20 elaboriamo questo evento e questo è l'essenza del nostro metodo run e adesso arriva il lavoro vero cosa devo fare quando succedono le varie cose quindi process event è un unico bel grande switch che sulla base di event type punto get tipo perché mi ha lasciato leggere tipo perché non ho scritto private sulla base del tipo di evento ho tanti casi possibili case arriva due punti break case chiamata due punti break case facciamo prima il caso normale triage break case uscita break questi sono i 4 casi principali poi vedete ed è un altro motivo per cui usiamo le numerazioni non dei numeri che qui c'è un warning che mi dice guarda che time out yellow che è un valore possibile di questa numerazione non l'hai messo nello switch quindi ti sei dimenticato un pezzo quindi proprio il compilatore ci dice mettile tutte e non mi permette di mettere due volte la stessa quindi visto che è già complicato così case cosa vuoi che io metta time out white case time out yellow e case spazio time out red black e qui abbiamo tutti i casi possibili tutti gli eventi possibili che abbiamo previsto li trattiamo uno a uno per ciascun evento ci chiediamo ok quando capita questo evento cosa deve succedere allo stato del mondo allora lo stato del mondo è fatto di due pezzi ovviamente la lista pazienti e beh questi valori in output che pigra mente e chiedo scusa mi sono dimenticato di azzerare nella parte di init vabbè è da zero adesso pazienti curati uguale a zero pazienti abbandonati uguale a zero pazienti morti uguale a zero va bene anche questo fa parte dello stato del mondo che devo aggiornare allora arriva andiamo in ordine cosa devo fare quando arriva un nuovo paziente allora io so quale paziente arriva perché io ho e punto il mio evento ho l'ora ho il tipo di evento che sarà arriva e ho anche il paziente riferimento a quale è il paziente che sta arrivando che se tutto va bene questo paziente sarà nello stato new l'abbiamo creato così allora devo dire che se questo paziente arriva adesso tra 5 minuti avrà finito il triage io adesso non sono capaci a metterli white yellow o red potrò metterglielo solamente tra 5 minuti giusto e allora non potrò fare altro che rimetterlo in coda questo dove è andato non potrò fare altro che rimettere in coda questo paziente questa volta con l'evento triage scadenzato tra 5 minuti conto che il paziente è arrivato beh non ce l'ho tra le variabili che mi interessano quindi va bene quindi questo paziente è arrivato cosa gli faccio? niente ma so che tra 5 minuti avrà finito il triage allora ci rivediamo tra 5 minuti per sapere come è andato il triage ok? ok allora gli faccio niente non lo tocco ma lo rimetto in coda creo un nuovo evento uguale new event che coinvolga quando cosa e chi l'ora l'ora è il tempo attuale più 5 minuti ma 5 minuti lo mettiamo come costante si copiamo dalle slide queste costanti dove sono? dove sono? qua duration triage white yellow red quindi si chiama duration triage ce l'abbiamo qua che è uguale a 5 poi abbiamo duration white duration yellow duration red 10 15 30 quindi per non mettere sempre la costante qua dentro quando deve essere creato questo evento? tra 5 minuti quindi e.gethora punto plus minutes duration triage quando cosa tipo di evento triage chi sempre lui no scusate non lo devo chiamare E ma lo chiamo nuovo E E2 perché è l'avvento che mi è stato passato quindi questo lo devo chiamare in modo diverso e a questo punto lo aggiungo alla coda di E2 questo mi ricorda che l'evento deve essere ordinato quindi devo aggiungere il comparatore all'oggetto evento perché venga aggiunto nel punto giusto quindi torno indietro e dico che la classe evento deve implementare comparable di event e il metodo sarà se this.equals no magari se c'è eh tra i tempi tra le ora tra i campi ora ora infatti stavo pensando a questo compare esatto che c'è perfetto quindi ritorno delego direttamente al compare to del metodo ora che vuoi other.ora ovviamente quindi non devo fare tutti i casi perché lo fa già compare to dell'ora e grazie a questo gli eventi sono automaticamente ordinati per tempo crescente l'arrivo è fatto triage l'ho messo in ordine sbagliato triage lo metto sopra a questo punto triage triage è quando un paziente passati 5 minuti dal suo arrivo va in sala d'attesa dopo che gli hanno segnato uno stato allora innanzitutto dobbiamo decidere qual è lo stato che gli viene segnato il testo dice assegna la rotazione quindi io segno lo stato e poi mi predispongo per il prossimo paziente a segnare in un stato diverso quindi ho bisogno di una variabile che si ricordi qual è l'ultimo stato che ho assegnato a un paziente o lo stato prossimo che devo assegnare uguale quindi questa variabile non può essere interna al process event perché deve ricordarsi da un evento all'altro che cosa succede quindi la dovrò mettere nel chiamiamolo il modello del mondo in qualche modo che è semplicemente lo stato paziente stato triage il prossimo stato assegnare e quando inizializzo il mondo lo inizializzo bianco stato triage uguale stato paziente punto white quindi questo è solo per fare la rotazione quindi quando mi arriva al triage io gli assegno lo stato libero che ho in quel momento quindi gli farò chi è il paziente e punto get paziente punto e mi mancano i get resetter adesso li vado a prendere salvo torno in simulatore get paziente punto set stato di stato triage gli ho cambiato lo stato adesso tu sei bianco oppure adesso tu sei giallo oppure adesso tu sei quello che vuoi e poi devo ricordarmi di cambiare lo stato di triage per farlo andare avanti di uno allora non voglio incasinarmi qua col codice delega una funzione così se è white lo fa diventare giallo se è giallo lo fa diventare rosso se è rosso lo fa diventare bianco sono tre if ma non ho voglia di metterle qua poi cosa può capitare a questo paziente che posso capitare due cose o è proprio fortunato in quel momento c'è uno studio vuoto non ho detto che tocchi a lui però no come non ho detto niente lo studio che deve chiamare niente lui si mette in attesa si mette in attesa per quanto non lo sa non lo sa per quanto perché la sua attesa dipende non solo da chi c'è adesso ma dipende da chi arriverà anche dopo di lui che abbia eventualmente un codice di serenità maggiore del suo quindi ho difficoltà io adesso a schedulare l'evento chiamata cioè io so che ti ho segnato un codice so che sei in attesa ma non so dirti quando verrai chiamato e come faccio a schedulare l'evento non posso dovrò trovare un altro meccanismo per schedulare l'evento di chiamata ci ragioniamo tra un attimo ma diciamo così il modo a cui agganciarsi per generare l'evento di chiamata è quando qualcuno esce da uno studio lo studio si libera quindi posso chiamare qualcuno e ci pensiamo adesso però so una cosa che a seconda del colore che tu hai potrà scattare un tuo time out questo lo posso sapere se ti ho dato il bianco tu so che dopo 10 minuti un'ora quant'è a quel valore ti stuferai allora io non so non sono in grado adesso diciamo così rifaccio la frase a questo punto io so che sei hai passato il triage sei in attesa possono capitare due cose o ti sei bianco o ti stufi e te ne vai o vieni chiamato qua non so se sei bianco non muovi se sei bianco facciamo l'ipotesi di essere bianco se sei bianco puoi stufarti andartene o essere chiamato se sei giallo puoi essere chiamato oppure aggravarti e diventare rosso se sei rosso puoi essere chiamato oppure aggravarti e morire quindi ciascuno dei tuoi stati dipende dal tuo stato possono capitare due cose diverse io non ho non ho modo adesso perché non so prevedere il futuro neanche nel simulatore vorrei di sapere quale delle due condizioni sarà quale delle due avviene beh dipende dal tempo la prima delle due che capita allora io una la so schedulare adesso perché il time out è noto quindi io dirò va bene tu sei bianco tra un'ora ti stufi e te ne vai e cominciamo a schedulare l'evento in cui te ne vada se poi tra mezz'ora ti chiamano meglio vorrà dire che ci sarà un altro evento in cui lo stesso paziente viene chiamato prima dell'evento in cui il paziente se ne va perché si è stufato la cosa prioritaria mi darà prima quell'evento di chiamata potrà capitare che più avanti quindi trovo l'evento in cui se ne è andato e mi accorgo che lui non c'è già più perché è già stato curato addirittura e vabbè allora ignorerò quell'evento oppure lo cancello se vedo che però posso avere più eventi possibili associati allo stesso paziente schedulati per il futuro la cosa degli eventi mi darà il primo possibile in questo caso qualunque dei due capiti invalida l'altro invalida quello successivo ovviamente ok? quindi se io sono rosso e dico tra due ore muoio e mi chiamano tra un'ora e 58 minuti non muoio più ok? quando arriva l'evento sei morto io vado a vedere lo stato non è più in triage è in treating e quindi non muore quindi questo complica la gestione degli eventi ovviamente allora io ciò che posso fare per ora è prevedere il time out e poi la chiamata sarà più complicata da fare e la facciamo la faremo dopo quindi per ora prevedo ciò che so prevedere il time out allora se anche qua devo andare a aggiungere una manciata di costanti time out white uguale che ne so due ore private int time out yellow dunque anche qua diciamo che dopo un'ora si aggrava nel slide non c'è nessun esempio di questi valori quindi li mettiamo così a buon senso e il rosso dopo la facciamo 90 via 90 minuti se ne va in un altro modo allora a questo punto siamo in triage mi hanno appena dato mettiamolo qua in mezzo mi hanno appena dato uno stato triage allora sulla base di questo stato triage imposto un nuovo time out quindi se mi hanno dato lo stato triage bianco allora dovrò schedulare un evento con un ritardo di time out bianco e l'evento sarà l'evento uscita o abbandona ci serve un evento speciale per abbandona forse si perché uscita è quello in cui esce dallo studio medico e lì incrementeremo il contatore che dice ne ho curato uno in più invece l'abbandona devo incrementare l'altro contatore che dice quanti pazienti hanno abbandonato quindi mi conviene tenere separati ah no ma sono stupido o meglio è tardi il time out white ce l'abbiamo già questo è l'evento che mi dice è scattato il time out bianco quindi schedulo un nuovo evento q.add adesso facciamo la breve new event schedulato per adesso più il time out bianco e punto getora punto plus minutes time out white quindi quando poi quale evento event type punto time out white chi sempre lui e appunto che è il paziente cosa abbiamo qua ok q.add new event di questo virgola event type e punto get paziente teniamo capo così mancava una parentesi ok quindi anziché creare l'evento edu eccetera faccio tutta l'istruzione sola creo l'evento e lo aggiungo la coda altrimenti se ero nel caso yellow faccio la stessa cosa con lo yellow con lo yellow quindi yellow 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 e indovina un po' la stessa cosa per il rosso non è possibile che lo triage mi abbia dato uno stato diverso da questi tre quindi questi completano tutte le possibilità curati e abbandonati morti non li devo aggiornare quindi sono a posto vabbè a questo punto abbiamo fatto tanto implementiamo anche sta roba qua cambia stato triage se stato triage uguale white allora stato triage uguale yellow as if questo è molto molto becero di farlo se era yellow diventa red se invece fosse red diventa white se era bianco diventa giallo se era giallo diventa rosso se era rosso ritorna bianco questo non c'entra nulla con la coda degli eventi semplicemente il meccanismo interno che abbiamo per dare al triage la rotazione dei codici sarebbe stato forse più comodo estrarli randomicamente a caso piuttosto che non fare questo pasticcio ma allora questo dovrebbe esaurire ciò che succede se non sbaglio nel caso del triage adesso cosa capita passiamo un attimo all'uscita dimmi no allora questo non è lo stato del paziente che quando scatta il time out capita qualcosa questo è la rotazione di questa variabilina stato triage che è il prossimo stato da segnare che quindi dice se a questo paziente ho dato un bianco al prossimo darò giallo se a questo paziente ho dato un giallo al prossimo darò rosso viene usato qua questa variabile viene usata qua set stato quindi semplicemente mi predispongo è come incrementarsi un contatore essenzialmente il prossimo che arriva sarà il 7 solo che purtroppo non è un contatore sono dei costanti e quindi devo gestire una per una l'uscita passiamo l'uscita perché dobbiamo ancora capire un po' come funziona il meccanismo di chiamata come rappresentarlo no? quando è che viene chiamato un nuovo nello studio utente nello studio medico un nuovo paziente? quando un paziente esce quando il paziente precedente esce da uno studio allora viene chiamato il prossimo quindi l'evento chiamata verrà generato dall'evento uscita dall'elaborazione dell'evento uscita quindi esce tizio bene tengo conto che è uscito che è guarito lo saluto faccio tutte le belle cose e poi schedulo per subito l'ingresso di caio scelgo chi è il caio che deve entrare e ne schedulo l'ingresso giusto? il caso iniziale è da gestire a parte è da gestire a parte perché il primo che arriva in realtà il caso iniziale ho anche il caso in cui lo studio sia vuoto non ci sia nessuno nel momento in cui l'ultimo esce non c'è nessuno in coda cosa faccio? non posso chiamare nessuno devo aspettare che arrivi qualcuno di nuovo allora in quel caso devo gestirlo all'arrivo o al triage però facciamo prima il caso normale come sempre e poi andiamo a vedere i casi limite allora ho bisogno quindi l'uscita di un paziente è facile nel senso che se tu mi dici sei uscito l'evento mi dice qual è il paziente che è uscito il suo stato lo metto in out incremento il numero di pazienti curati e sono a posto su quel paziente non devo più fare nulla poi però devo scegliere il prossimo paziente da curare e mi dice il testo tu devi curare il paziente che ha la priorità più alta e a parità di priorità quello che è arrivato per primo come faccio a sapere chi è arrivato per primo mi sono dimenticato di salvare nel paziente questa informazione per chi non so non mi sono scritto l'orario d'arrivo dei pazienti io potrei andare a recuperare nella coda degli eventi quel paziente quando avrà il prossimo evento schedulato ma non c'entra niente con la sua ora di arrivo perché nel frattempo può aver avuto due time out o chissà che cosa ok quindi qua mi accorgo che mi sono dimenticato un dato non è mai troppo tardi il paziente non ha solo lo stato ma anche un local time che è l'ora di arrivo e qui con tanta pazienza l'aggiungiamo e aggiungiamo anche local time importiamo java.time e aggiungiamo e aggiungiamo anche il suo getter setter su località o'ora di arrivo e nel metodo è facilissimo questo punto nel momento in cui creo il paziente l'ora di arrivo ce l'ho quindi sulla base di questi due criteri io posso sapere qual è in questo momento qual è il prossimo paziente che deve passare mi verrebbe quasi voglia di fare una coda prioritaria in cui il criterio di ordinamento fosse la combinazione tra codice colore e ora di arrivo se non fosse che il codice colore glielo cambio a metà perché il time out può cambiare il codice colore quindi dovrei toglierlo e rimetterlo dimmi il codice colore indica la gravità che ho dato alla persona sulla base della gravità alla persona dei comportamenti diversi col white dopo un certo punto lui va via torna a casa fine con lo yellow può diventare rosso la somma dei time out di yellow più il time out di red porta alla morte se nel frattempo non viene chiamato sì e cosa vuoi non ho capito cosa si fa in base a quanto tempo di manca la morte o altro cioè tu arrivi e ti dico guarda tra 8 ore sarei morto e questo dato va bene a parte la simpatia dell'atto in sé ma cosa non è problema entro quando posso chiamarlo è che io ho un ambulatorio pieno di persone e ne devo chiamare uno sono tutti ancora vivi quindi il loro tempo di scadenza non è ancora arrivato per nessuno chi chiamo? non chiamo quello che è la morte più vicina non è detto non è detto perché io potrei avere fammi pensare un secondo un giallo che è diventato rosso ma che è arrivato molto prima di un rosso appena arrivato e quindi lui è arrivato prima e quindi passa davanti a quell'altro che magari è appena arrivato io sono giallo al 10 del mattino divento rosso non mi ricordo cosa ho messo un'ora un'ora divento rosso alle 11 e diventerò nero al mezzogiorno e mezza al 12.30 ok? se un po' prima delle 11 arriva uno rosso lui avrà una scadenza un po' prima di me però visto che io poi mi chiamano a mezzogiorno e 10 chiamano qualcuno a mezzogiorno e 10 a mezzogiorno e 10 sia io che lui siamo rossi ma lui è arrivato da un quarto d'ora io sono arrivato da un'ora quando sono arrivato ero giallo però sono arrivato da un'ora adesso poi possiamo discutere quale sia giusto eh? quindi passerebbe quello che era giallo da tempo e è diventato rosso sì possiamo discutere se sia giusto o no o se sia la regola vera che usano gli ospedali però il testo dice quello che in quel momento ovviamente è il codice più grave a parità di gravità quello che è arrivato per primo prego e in ogni caso per seguire il tuo ragionamento è sempre pericoloso cercare di capire cosa succederà dopo perché in sistemi hai eventi di questo genere tu non posso capitare una cosa poi ne capire un'altra poi si incrociano e prevedere guarda che di sicuro tu passerai prima dell'altro tu uscirai prima dell'altro devi fare tutta una serie di ipotesi che stanno facendo e sei sicuro che magari la somma di due time out sia minore del terzo giochini di questo genere per poter fare queste cose invece qua io ho ragione in modo molto più bovino in questo istante di tempo cosa devo fare? boh fine non vado a vedere cosa succede come conseguenza di ciò che ho fatto adesso proprio per scelta vado un evento per volta elaboro l'evento e basta poi ciò che succederà lo vedrò dopo l'orologio andrà avanti come va avanti quello vero e mi occuperò di quello quindi mettiamoci d'accordo su cosa rimane da fare perché ovviamente non abbiamo tempo di farlo nel caso dell'uscita io devo registrare l'uscita del paziente corrente di di e.getpaziente poi decidere chi devo chiamare sulla base di colore e tempo di arrivo tra i pazienti in attesa quindi se c'è almeno un rosso chiamo un rosso quale? quello che ha il tempo minore se c'è almeno un giallo se non c'è nessun rosso ma c'è almeno un giallo chiamo un giallo e così via e a questo punto schedulare per adesso la chiamata del paziente e questo appunto passerà poi subito dopo all'interazione immediatamente successiva del del poll della coda prioritaria mi troverà per adesso questo tempo attuale la chiamata del paziente se non c'è nessuno non faccio niente poi la cosa che dobbiamo ancora gestire è che in realtà abbiamo più studi contemporaneamente quindi un paziente può essere può uscire dal primo al secondo al terzo studio quindi per sapere possiamo avere fino a tot pazienti in cura questo questo per rispondere alla domanda che faceva uno di voi il dubbio giusto legittimo è come facciamo all'inizio al mattino al mattino oppure ogni volta uno studio diventa vuoto e non c'è un paziente pronto da chiamare non potrà rimanere vuoto per sempre allora dovrò avere un meccanismo che diciamo periodicamente ogni 10 minuti si sveglia e guarda se c'è uno studio vuoto quindi se il numero di pazienti che sono in treating è minore del numero di studi non mi interessa sapere se è il primo o il secondo o il terzo studio se il numero di pazienti che è minore scusate se il numero di pazienti che è in treating in trattamento è minore del numero di studi NS allora ne chiamo uno schedululo per adesso una chiamata questo è un meccanismo esterno se pensiamo alla realtà cosa succede che tu quando esce un paziente dici avanti un altro chi è il prossimo e lo chiamano se non c'è nessuno di tanto in tanto l'infermiero il medico esce dice è arrivato qualcuno ecco questo è arrivato qualcuno dobbiamo modellare un altro tipo di evento che scatta lo possiamo schedulare periodicamente quindi scheduliamo il primo al tempo zero e poi lui si rischedula da solo ogni volta che scatta si riprogramma per dieci minuti dopo non dobbiamo necessariamente crearli tutti subito lo creo lui va a vedere se c'è qualcuno lo chiamo allora ho studi liberi no ok non faccio niente ho studi liberi si chiamo uno e poi in ogni caso mi rischedulo tre dieci minuti per risvegliarmi quindi ho un tic che scatta ogni tot minuti per andare a riempire gli studi vuoti e questo ragione sia il problema iniziale del popolamento iniziale degli studi sia il problema del caso in cui gli studi si svuotano e quindi in quel momento non puoi chiamare nessuno quindi qua non posso schedulare quando chi dice decidere chi deve essere chiamato ma non trovo nessuno da chiamare cosa faccio non chiamo nessuno ma poi quando arriverà qualcuno dovrà entrare ok allora questo meccanismo dobbiamo aggiungerlo ancora così come gestire la chiamata ma a questo punto gestire la singola chiamata è abbastanza semplice perché sono già la key e lo metto in treating e metto il time out per l'uscita ok fermiamoci qua e poi ovviamente lo completeremo la settimana prossima non mi ricordo se l'unico martedì ci vediamo ma la prossima volta che vengo io chiaramente finiamo questo esercizio grazie grazie grazie